Francesca Rosini è riuscita ad aprire un bar pasticceria a Casalguidi e Leonora Ripellino, una rosticceria a Bottegone, sono alcuni dei frutti del progetto di formazione IDRA presentati dalla provincia di Pistoia nel corso di una conferenza stampa proprio nel bar pasticceria di Casalguidi aperto da una delle due protagoniste del progetto. Il corso che ha coinvolto 11 aspiranti imprenditrici ha visto al fianco della provincia il CESCOT con Vesercenti, Sofia Cenea e Coldiretti, soggetti che hanno accompagnato nella formazione le aspiranti imprenditrici, due delle quali hanno coronato il proprio progetto. Io mi sono trovata bene comunque, mi hanno comunque aiutato molto sia in tutti i permessi che abbiamo dovuto fare, anche la preparazione dalla parte amministrativa che non è facile oggigiorno poterla diciamo affrontare. Mi sono trovata molto bene, sono stati molto vicino, mi hanno comunque aiutato a costruire questa azienda e tutt'oggi insomma per essere un anno e mezzo diciamo sta viaggiocchiando, stiamo sempre sul nascere però mi stanno comunque aiutando anche adesso. Nato per rispondere alla crisi economica e al bisogno di occupazione per sostenere le donne espulse dal mercato del lavoro, il progetto ha preso il via nel marzo 2011, sostenuto da 100.000 euro stanziati dal Fondo Sociale Europeo. Le donne coinvolte hanno attuato un percorso formativo a 360 gradi dall'aspetto finanziario al marketing sino ad arrivare alla realizzazione vera e propria di un'impresa. Un progetto importante al quale abbiamo come provincia creduto fin dall'inizio, è una progettualità condivisa che ha preso per mano una serie di donne che avevano voglia di iniziare attività imprenditoriali. L'abbiamo preso per mano attraverso un progetto di formazione che vedesse anche la compilazione di un piano economico-industriale sempre con l'aiuto e la guida e l'assistenza di esperti che non solo li hanno assistiti nella struttura generale della nuova impresa ma li assisteranno anche durante il primo anno. Per tutte quelle sono le competenze amministrativo-burocratiche e sappiamo non sono poche. Quindi queste imprese hanno sempre un soggetto a cui riferirsi e che dovrebbe in teoria semplificargli un po' la strada fino a cui saranno in grado di camminare con le proprie gambe.